Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, il secondo episodio della serie... Eh, sì francese, la serie sulla serie inglese E quest'oggi direi di tirarci un po' fuori qua con la trebbia Ok, anzi andiamo a recuperare il carretto Per questo episodio andiamo ancora col fan, poi vedremo nei prossimi se lo teniamo oppure no Tra l'altro fa stranissimo questo tablet gigante che vi dà la velocità a tutti i dati Sembra proprio un tablet, ma i tablet non mi piacciono più di tanto Cioè, vabbè Un sacco di trattori ormai lo stanno usando questa cosa Eh, ci mettiamo qua e poi ci pensiamo dopo per scaricare Anzi no, scarichiamo subito così che non ci pensiamo più E quest'oggi andiamo, innanzitutto direi Ok, sganciala lì, ok siamo a posto, questo lo spegniamo Abbiamo qua questo trattore e l'imballatrice li andrei subito a vendere Che non ce ne facciamo nulla Sapete cosa vi dico? Eh, da trovare l'imballatrice Ok, direi che li vendo così perché non riesco a trovare il punto vendita Allora, vendiamo questo Eh, però Per un bel gruzzoletto di soldi Gruzzoletto non so da dove mi sia uscito perché non ho mai usato questa parola Ok, venduti E andrei a prendermi Allora, imballatrice stavo valutando per una class Mi sa tanto che andremo con la class Sapete? Class cron 240, in teoria le fanno tutte uguali, sì Direi quasi quasi Eh, la class ci sta perché costa un po' meno 250, 230 Sapete che quasi quasi proverei una di queste Direi di far questa, la big baller Della New Holland Figurazione No, direi far standard Matici Lascerei il suo Treble No, lascerei piuttosto Dai, questi qua mi piacciono Michelin Figurazione ruote Standard Ah, guardate che bella la targa Gran Bretagna Ok, va benissimo Ok 133.000 Perfetto 143.000 euro invece Per un trattore grande Non ce ne facciamo nulla Questi soldi Sarebbe bello, eh Ok, qua qualcosina c'è Ni, ni, ni Non ce n'è nulla Dobbiamo accontentarci del nostro caro trattore Però se vendessimo il Il fend Vediamo un po' il trattore che ci interessa Io vorrei fare una coppiata con un New Holland Magari non per forza il T8 Ci possiamo accontentare di un T7 E compriamo questo trattore Nuovo Ok, eccoci qua Guardate che bella con la targa sua Tutta una coppiata perfetta Per capire dove siamo Siamo A sinistra In alto a sinistra Sotto il campo 24 Credo Vabbè 60.000 Sterline Vediamo un po' Ah no In alto a destra siamo Che cavolo Vediamo lo shop come è fatto Ok USB Sì qua ci sta Ok 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 Ingresso un po' strettino A quanto pare Direi che la direzione La direzione è questa La mappa la lascerei un po' aperta Tanto per capire Guardate anche questo Con lo schermino qua Mi sembra No dai giusto Stranissima sta cosa Vorrei capire come fa Ah è puntato in mezzo E il volante gli scorre intorno È strano È molto strano Se voi volete un volante su piatto Però non vedete lo schermo Ok È molto strano Sì qua spendiamo un sacco di soldi Comunque ci sta a fare anche queste cose Questi così veloci e rapidi Spostatevi Cerbiati Tra l'altro l'altra sera Tornando a casa Mi sono imbattuto Sotto casa mia Cioè dalle mie parti ci sono un po' di boschi Così Mi sono imbattuto in una famigliola di cerbi Allora destra e sinistra Direi di fare il campo qua a sinistra Che è un po' più piccolo E non ve l'ho ancora fatto vedere È quello che ho trebbiato io Tra l'altro Prima di partire Vi faccio vedere quanto abbiamo immagazzinato Di frumento e d'orzo Sono arrivati Sì Ricordarmi tenere la sinistra Su sta farm Spieghiamola Spieghiamola Bella Non l'ho ancora provata Questa è il mio Allant Tra l'altro Possiamo vedere Se ne balla 220 240 Giustamente Vi faccio vedere Ok quanto siamo Abbiamo immagazzinato 105.000 di orzo E 64.000 di frumento Sì bene o male È un pelo più grandicello Il tre Cioè Quasi il doppio alla fine Se guardiamo i litri Poi dipende Uno rende di più l'altro di meno Però 130.000 avremmo fatto Se era Il doppio Quindi Sì E sono tanti soldini Allora Abbassiamo e accendiamo E partiamo Giustamente Eh Ci sta questa cosa Di aver tanti soldi Iniziare subito Così col botto Poi neanche male Vanno di moda Comunque questi lampeggianti Qua bassi ora Ma sì Ci sta alla fine Vanno luce Come vedete Lì dietro c'è una farm E ho visto Dopo un paio di volte Che andavo antinietro Con il raccolto Con il nostro rimorchietto Che noi Praticamente Possiamo Stoccare Scaricare qua E conta come se fosse Nell'altra farm Nell'altro capannone Quindi ci sta Sono collegate tra di loro E Ottima cosa Cioè Ci risparmia I viaggi Che ne so Come si sono messe Le farm Guardare Una qua L'altra sopra Sì le farm sotto Conviene venire qua A scaricare Con quelle sopra Conviene star su Sì però Non è che c'è Sta grande differenza Di distanza Tra l'uno e l'altro Infatti qua Poteva andare anche su Che Non ci cambiava nulla Però Avercela qua vicino Fatto davvero comodo Allora 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 T7 Che Vabbè dal vivo Non lo vedo da una vita Eh non conosco Ma abbiamo già fatto Un ballone Abbiamo ancora fatto nulla Poi è da vedere un po' Che farcene Di questa paglia Quasi quasi I primi Accumuliamo tutto lì In farm E i primi balloni quadrati Che faccio Tra l'altro Accumuliamo Questo incendio Tutto in farm E poi ci penseremo Per la vendita Facciamo una vendita Bella Corposa Più in là Abbiamo la season Mi pare Eccolo che è caduto E la caduta è un po' strana Dovremmo Riendirizzare questo Un po' più Verso il basso Sembra che abbia un altro Un po' di tutto Un altro snodobo Qualcosa Per uscire di più Però vabbè Questi sono i più lunghi Da 2 metri E 40 Eh bello lungo Mi sa che è anche Quasi piccolino Sto trattore Per tutto L'attrezzatura Che abbiamo dietro Tra l'altro Il percentuale Che vedete Non è del ballone Che sta per uscire Ma Del ballone Che sta creando All'interno Io ne abbiamo Su tre Così di balloni Sì I miei calcoli Sono costi Ok Puttalo giù Qua non faccio il giro Lo facciamo alla fine Ok E riprendiamo Eh non so se Saltare un'andana Puoi ritornare indietro Fare un'andana Sì una no Ritornare indietro Cosa? Boh Vedrò Il da farsi Ah no Gran bello Cioè pensavo fosse Il classico T7 Ma l'hanno aggiornato Un po' Il modello E' più accattivante Anche i colori Non so se il modello In realtà il modello È molto simile Da qua davanti Una telecamerina Boh Non so Ah Grandi novità Anche ste impallatrici Io ho mai visto Io ho presente Vabbè presente per farmi Perché non Me ne intendo Di Agricoltura Cioè non ho Non pratico Perché non sono stato Più a delle fere I recenti Ovvero gli ultimi Tre o quattro anni Gli ultimi cinque anni Boh Quindi non saprei Palloni Che è da vedere Anche come raccoglierli Quasi quasi Ci sta Abbiamo JCB Ci Ci Prendiamo quello Veniamo giù A A caricare Tra l'altro Sto trattore Pensandoci Vabbè più o meno A gli stessi cavalli Delle John Deere Però ci potrà essere Comodo Per quando andremo A coltivare A racciarare Si faremo magari Qualche aratura Coltivazione dei campi Quelle cose lì Ci sarà davvero Molto molto comodo Perché Ha più potenza Del John Deere Sicuro E noi che vogliamo Puntare sui class Ci siamo ritrovati Con un New Holland Che secondo me Per la farm Dove siamo Ci sta bene Anche se qua dietro Abbiamo Un macchinario È davvero Gigantesco Cioè Non so che parola Dalli Sinceramente È molto Molto Grande Cioè più del previsto Non so Forse poi Una Un'imballatrice Classica Anche soltanto Guardare Sopra Le Unimacchinari Grossi Ve ne rendete Conto Quando Li mettete In pari Tipo una persona Se guardate Ha tutte La scaletta Ha le Protezioni Per non far cadere L'operario Sono belle Alte Sì Sono quasi Alti Sarà a livello T No bene La testa No Però Nel senso Se siete in piedi L'asta più alta A livello La testa No Avanzerà fuori Sicuro la testa A livello Mani Però è bella Alta Qua adesso Guardate Com'è bello Pulito Anche il Tettuccio Di suo Trattore Bello Quei farettini Piccoli Bello 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 E qua Andremo avanti A far paglia Tutto andare Che raccoglie Si sta raccogliendo Come vedete Sto tenendo Il ritmo Di un video Ogni due giorni A parte Il weekend Il weekend Se riesco Vi porto Oppure no Però almeno Avere tre video A settimana Mi da Mi soddisfo Perché Nel senso Faccio anche altro Lavorando così E' un ritmo Che riesco a tenere Abbastanza bene A volte faccio un po' fatica A volte invece Riesco E come Dipende Se nel weekend O tempo Anche per registrare Oppure la sera Se non ho impegni Però Sono soddisfatto E Vedo che il canale Non sta andando benissimo Ma Mi soddisfa lo stesso La cosa E si Quando c'è una cosa Che va bene Ti soddisfa di più Però anche se va Non come le aspettative Ma quel qualcosina in più Rispetto alle aspettative Cioè no scusate Non come le aspettative Ma anche se C'è qualcosina di positivo Va più che bene Allora 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 Io non vorrei dire Una cavolata Ma mi sa che fa davvero Fatica Si Dovrebbe fare i 20 Allora mi sa Questa imballatrice Corvi se ne vanno E dovrà fare Anche una screen Poi Eh si Ci servirà Un'imballatrice Per balloni tondi Magari per i campi Ad erba È da vedere Non ci conviene Campi Campo Credo Si In teoria si Eh Finchè non le compriamo Non le spawnano nel campo E poi spawneranno nel campo Quindi un po' da vedere Che fare Vedremo poi Dai Dai Facciamo già la screen Se no mi dimentico E Arriviamo a fine video Che devo Devo recuperare Tutto il lavoro fatto Io non mi ricordo mai Come sono fatte le copertine Fantastico Davvero Sono molto molto Professionale Ehm Calcevia richiede Ah dovremmo dargli anche la calceviva Pure Vabbè Gliela daremo poi Non importa E Che dire No sarà divertente Col JCB Che adesso potete vedere Là dietro Io Vorrei fare una cosa Vediamo se va dritto Sì Guardare quanti balloni Stiamo creando Statistiche Balle create 9 E siamo a metà Quindi 18 20 E sulla 30 50 balloni 50 balloni Non sono malaccio Devo dire Guardate che brutto però Veli putta giù storti Cavolo Non so se Perché magari Fate una Sterzata leggermente Gli da il colpetto Cosa Però Mi scoccia Cavolo Cioè Di solito i balloni Cadono dritti Vabbè Vabbè Ci accontenteremo Vediamo questo come cade Lo stiamo andando Lo stersiamo un po' Stai andando Praticamente dritti Eh Vedete va giù Punta un po' da una parte Ma il terreno Non è piano E ve l'ha buttato Tutto storto Eh Sta cosa Potrebbe essere Potrebbe andare sistemata E magari anche la parte dietro Potrebbe pendere un po' più Verso il terreno In modo che Vengono giù quasi Pianeggiare Con poca inclinazione Ecco Però vabbè Sono così Dobbiamo accontentarci Allora 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 I soldi 60.000 Saranno poi 80 85.000 euro Eh da Sì vabbè Dobbiamo ragionare con le sterline 60.000 sterline Solo che Per fare un po' un paragone Però Tutto costa un po' meno Quindi Proviamo con le sterline Dato che siamo anche in Inghilterra E Vabbè Prossimamente Raccoglieremo i balloni Eh Spero Per settimana Prossima Perché questo video uscirà di venerdì Avete visto ieri la Serie agricola Sicuramente Cos'è che avevamo fatto Avevamo fatto Non mi ricordo più No l'ho registrato l'altro giorno Mi pare la serie agricola Sì perché lunedì è uscito questo episodio Mentre Mercoledì È uscito l'episodio della serie agricola Che non ricordo più cosa Perché io sto registrando di martedì sera Ora Non mi ricordo Sono Sì davvero un youtuber molto professionale No vabbè Comunque onesto Cioè Non mi ricordo Non mi ricordo Ho fatto cosa Mi ricordo Che ho Ho fatto off camera Un sacco di cose Mi ero portato avanti Oh proprio Ah no Avevo Sì Lavorato i campi Avevo Buttato l'herbicida Avevamo fatto La movimentazione Dei sacconi Sì Mi ricordo Avevamo messo giù Il posizionabile Sì perché Ho fatto anche una live E vi invito a passare A seguirmi su twitch Per delle future live Che adesso sto valutando Dato che vi ho detto Nel weekend Stavo Ho fatto una live Cos'era domenica Mattina O cosa O sabato mattina No domenica mattina era E Ho detto che avrei portato Delle live anche in settimana Ma dipende come arrivo a casa Dopo lavoro Sono stanco oppure no Se ho video da preparare C'è da registrare Oppure cosa Perché Stancano parecchio le live Se devo finire il lavoro Tornare a casa Fare una live Che sono già stanco Mi stanco Poi mangiare di corsa E magari far due robe E poi andare a dormire No Ho anche una vita Al di fuori Di youtube Barra twitch Però ecco Vi invito a passare Nel link in descrizione Che c'è il canale twitch E molto probabilmente Nel weekend Sarò presente Per delle live Magari il sabato O la domenica mattina Anche presto Tipo Dalle nove Gli orari lì Tanto Se non lavoro E non sono via Una live ci sta Invece nel pomeriggio Barra sera Sono più stanco Magari Devo fare altro Poi Mi dimentico E niente Siamo da 20 minuti Con questo trattore A quanto pare Dalle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ore Scusate E Il video Di solito Ultimamente Li sto facendo Troppo lungo Quindi vorrei Magari evitarlo Però se vi piacciono Un video lunghi Fatemi sapere Magari potrei Ripensarci Questo video è molto Molto Easy In cui andiamo Soltanto ad imballare E La mongolfiera Sta volando Noi ci salutiamo Spero che il video Vi sia piaciuto Se così fosse Avete come sempre Lasciate un like Commentare Condividere il video Ed iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Che è importantissimo E come dicono tutti gli youtuber Cliccate sulla campanella Per non perdervi Le notifiche Io vi saluto Vi ringrazio Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Ciao